Ticoressa il Movimento 5 Stelle con Beppe Grillo che è tornato a chiedere l'impeachment di Giorgio Napolitano, ossia la messa in stato di accusa e i parlamentari pentastellati poco fa hanno riferito di voler adottare la linea dura e di rifiutare eventualmente la convocazione di Napolitano. Sentiamo Grillo ieri sera in un comizio a Trento. Questo Napolitano qua bisogna che la finisca, bisogna che la smetta, noi chiediamo l'impeachment sul serio. Noi andremo lì sotto di lui e che deve smettere la tua c***o tanto a te, che tiene di scacco tutta l'Italia. Di notte chiama di no, ma pensa che in una democrazia chiama di notte e l'opposizione non la chiama.